Un grande politologo, un grande combattente, lui era di quello che collegava a Volna Europa, così libera lì, libera Europa. E proprio in questa serata, ieri l'altro, a televisione polacca che io ho ascoltato tutta la trasmissione, perché ogni anno c'è questa, c'è queste grandi nagrodi, perché molto, gli orari sti mortano nel 2004 a Varsavia, a Varsavia, a Provonsky. Lui in questa serata, ieri, hanno parlato molto anche di Pilitsky, solo Pilitsky era un uomo semplice e diverso, invece questo è un grande politologo, politico, e l'ha collegato da Volna Europa per una Polonia libera durante la guerra, e poi dopo la guerra è tornato, perché lui, sfortunatamente, era un grandissimo polacco nato a Berlino nel 2014, c'è grande differenza di età tra di loro, vero? Però, a questa serata, ieri l'altro, hanno accennato anche di Pilitsky a Brozo, a Museo di Tadeusz Kosciuszko, volevo accennare questa cosa, che è una cosa molto importante per noi polatti.